Caro fenomeno, ti scrivo per ringraziarti. Ho iniziato a giocare studiando i tuoi movimenti in televisione. Velocità, forza, fantasia, tutto in un unico giocatore. Grazie a te mi sono innamorato del calcio. Ho sempre provato ad imitarti, mi allenavo tutti i giorni, in camera o al campetto sotto casa. Bastava solamente un pallone per rendermi felice. Ricordo la sera quando tornavo dagli allenamenti. Ero sfinito, ma i miei genitori erano sempre lì, pronti a sostenermi. Devo ringraziarli per tutti i sacrifici che hanno fatto. Senza di loro probabilmente mi sarei arreso. Quante volte ho detto no ai miei amici che volevano portarmi fuori a ballare, perché ero focalizzato più che mai sul mio obiettivo. Provavo e riprovavo le tue giocate, riuscivi a rendere semplici cose impossibili. Mi sono emozionato quando in Corea hai vinto il mondiale. Ho pianto a Roma il giorno del tuo infortunio, ma ti sei rialzato e mi ha insegnato a non mollare. Non è stato facile, però sono migliorato. Allenamento dopo allenamento. La domenica, in silenzio, prima di ogni partita, chiudevo gli occhi e pensavo a te con il pallone tra i piedi. Oggi gioco ancora con la stessa passione e felicità di quando ero bambino e tutto questo, Ronnie, lo devo a te. Grazie per avermi insegnato a sognare. Grazie.